buongiorno a tutti cantanti allora oggi lavoreremo su alcuni esercizi collegando quelli che con le e continuiamo ad aprire senza fare queste cose qua non dobbiamo arrivare al punto di cantare chiudiamo chiudiamo adesso si che ci massaggiamo bene la parte come se fosse un laser puntato davanti non questo abbiamo esercitatevi e divertitevi ciao 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 ciao